Partiti i saldi invernali anche a Taranto sono le primissime ore. Non c'è più, ormai da tempo, l'assalto degli anni passati. Come nel 2014, dicono i commercianti, i clienti ci vanno cauti. I soldi da spendere non sono tanti e vanno spesi con parsimonia ed attenzione, badando anche alla qualità. Oggi è il primo giorno. Ormai è finito l'epoca dei primi giorni. È seguito quello che conta. Vedremo più il galoppare. Quindi il primo giorno non c'è più la folla, la confusione dell'assalto ai primi capi. Però può andare meglio nei prossimi giorni? Sicuramente sì. Abbastanza bene la gente risponde a questa aspettativa. Anche perché oggi è necessario risparmiare. Certamente, però bisogna stare attenti anche alla qualità. Qui c'è qualità e risparmiare. Assolutamente. E infatti nei negozi del centro non c'è molta gente, ma qualcuno per strada con le buste tra le mani già si incontra. Si compra l'essenziale, quel che serve davvero e senza fretta. Sì, i primi acquisti è ancora poco, però vediamo di trovare qualcos'altro. Ma conviene, sì? Sì, mi sembra di sì. E che cosa ha comprato? Ho comprato una borsa. È il momento per farlo? Sì, direi di sì, perché ho speso il 30% e meno con i saldi. Poca, poca roba. Poca roba perché bisogna risparmiare e quindi soprattutto si compra a saldi. A saldi soprattutto, sì. Poi ci sono cose che convengono e cose che non conviene comprare. Grazie. Grazie.